Sindaco, questa mattina riunione dal sindaco di Campli con gli altri sindaci della Vibrata e anche alcuni deputati parlamentari per parlare della questione emergenza dell'alluvione della provincia di Teramo e per parlare di fondi che ancora non arrivano. Nella riunione a poche ore dall'alluvione, quindi del 2 marzo, noi chiediamo al Presidente, al Governatore Chiodi di impegnarsi urgentemente presso il Governo centrale un po' a mutuare quello che aveva fatto il Governatore Zaia dove la Regione Veneto ha preso 280 milioni per l'alluvione nel Veneto e ultimamente il Governo centrale ha deliberato 7 milioni per la Basilicata chiediamo subito una presa di posizione molto forte perché abbiamo avuto in quei giorni giornate campali per quanto riguarda tutta una situazione atmosferica e di danni ma soprattutto perché c'è anche in corso una continua pericolosità sono passati mesi, fu individuato nel Presidente dell'amministrazione provinciale il commissario che non è stato ancora nominato dal Consiglio dei Ministri e quindi è tutto fermo, noi abbiamo strade, abbiamo situazioni drammatiche ma soprattutto abbiamo anticipato la città di Pineto ha anticipato circa 600 mila euro di urgenza presa dalle proprie casse e non ancora si sa nulla di quello che succede e per l'ente pubblico ma anche e soprattutto per i privati credo che sia una somma intorno ai 12-13 milioni di danni avuto su questo territorio ma non se ne sa ancora nulla Ecco ha detto bene la situazione delle strade della provincia è disastrata, ultimamente anche l'assessore provinciale è entrato nel merito dicendo alle prime piogge potrebbe accadere di tutto Sì perché adesso non ci sono più le ricorrenze 50ennale o 25ennale per quanto riguarda l'alluvione oggi il sistema è cambiato, basta poche ore per ritrovarti in ginocchio noi tutto quello che abbiamo costruito in tanti anni di sacrificio all'amministrazione ce lo siamo giocati in poche ore quindi il problema c'è ancora perché sulla strada provinciale che va per altri ci sono burroni di circa 10 metri se dovessi accadere qualcosa c'è sicuramente un rischio mortale ma soprattutto sul torrente Calvano che passa all'interno di Pineto che devono partire i lavori immediatamente eppure non si muove ancora nulla per anche una mala organizzazione dell'amministrazione provinciale di Teramo quindi questa mattina abbiamo ribadito ancora una volta un impegno forte da parte del governo regionale che secondo me non ha la forza e la capacità di porsi davanti al Ministero delle Finanze di risolvere questo problema che durante la stagione invernale procurrà altre problematiche